Un amico che invita un amico suo a prendersene una peritiva a casa, no? Arrivano su casa verso mezzogiorno, entrano dentro casa, la moglie gli fa un cazzo e adora come ti permetti di portarla a casa così senza avvertirmi? Io non so truccata, i capelli non ce l'ho fatti, so ancora in pigiama, casa è un casino, perché l'hai portato? Lui gli fa no, niente, siccome si deve sposare io volevo far vedere com'era.